Che cos'è la comunicazione efficace? Spesso la gente crede che si tratti semplicemente di mettere insieme delle tecniche, semplicemente di apprendere delle strategie molto facili da studiare così a tavolino e che comunicare efficacemente con gli altri significa in qualche maniera raggirare il proprio interlocutore. In realtà non è nulla di tutto questo. Essere efficaci nella comunicazione significa creare rapporti empatici. L'empatia è la chiave di volta. Che cosa significa empatia? L'empatia è la capacità di entrare in sintonia con la persona che abbiamo davanti o addirittura a volte si parla di persone che entrano in sintonia con più persone contemporaneamente. Ad esempio se io sono davanti al televisore e sento di un terremoto e vedo gente che sta soffrendo e soffro anch'io in quel momento, quello significa entrare in empatia con più persone. Infatti empatia significa insintonizzarsi con lo stato d'animo degli altri, che è diverso da simpatia. La simpatia vuol dire che qualcuno semplicemente mi è simpatico, qualcuno mi diverte, qualcuno mi fa star bene. Non per questo significa che io possa fidarmi di questa persona. Quando invece creo un rapporto empatico vuol dire che non solo entro in sintonia con questa persona ma sento di potermi fidare di questa persona. Ecco perché creare rapporti empatici è estremamente importante nella vita di tutti i giorni. Hanno anche fatto delle ricerche, hanno visto che nelle aziende persone che hanno delle reti di relazioni empatiche riescono ad avere aiuto nelle circostanze più difficili, perché hanno persone a cui rivolgersi per avere una mano. Ecco perché io insisto molto su questa capacità che è possibile sviluppare, perché noi da piccoli l'abbiamo tutti, sin da piccolini entriamo facilmente in empatia con gli altri. Se un mio amichetto, magari quando due o tre anni cade, si fa male e comincia a piangere, anch'io inizierò a piangere perché entro in empatia subito con il mio amichetto che si è fatto male. Poi col tempo da adulti noi dimentichiamo questa capacità così importante al punto che anche quando vediamo una persona che sta male per terra ci sono persone che passano avanti senza neanche chiedersi che cosa sta passando quella persona. Il rapporto empatico è possibile raggiungerlo con la condivisione per esempio di alcuni valori, delle credenze. La gente ha una propria mappa del mondo, una propria visione del mondo e ogni persona ha una visione unica della propria esistenza. Non esistono due individui al mondo che hanno una visione identica. Ci sono persone che hanno visioni simili e quindi il buon comunicatore deve sempre concentrarsi sul fatto di scoprire qual è la visione del mondo della persona che ho di fronte. La visione del mondo è appunto fatta da quella che viene chiamata mappa del mondo e che è costituita da valori e da convinzioni. I valori sono per esempio amicizia, benessere, onestà, famiglia, amore. Sono importanti pezzi motivazionali come se fosse il carburante delle nostre azioni e quindi è importante nella comunicazione che se parlo con qualcuno e mi dice l'amore per me è importante e dall'altra parte se io condivido questo importante elemento mi sembra ovvio che si crea empatia. Se una persona viene da me e mi dice per me il buddismo è veramente importante e mi ha cambiato la vita e io invece dall'altra parte gli rispondo a io me ne frego del buddismo, per me io sono atrio per esempio, non credo né nelle filosofie né nelle religioni. E' chiaro che così facendo sto creando mismatching, non dovrò lamentarmi se poi quella persona non vorrà avere un rapporto con me di qualsiasi tipo, personale o professionale. La gente a volte crede che fare i polemici ci rende più simpatici, fare i polemici non ci rende più intelligenti, in realtà ci rende più stupidi davanti agli altri e soprattutto ci rende poco empatici. Ecco perché è importante imparare ad ascoltare, fare un ascoltativo, capire veramente l'altro, mettersi nei panni dell'altro e imparare a condividere. Chiaramente noi non siamo obbligati sempre a condividere gli altri perché io magari posso non condividere quello che pensa l'altro, ma quantomeno imparare a rispettare il punto di vista altrui. Ecco queste sono sicuramente delle regole e dei consigli molto importanti che possono aiutarci a cambiare la qualità delle nostre relazioni e sicuramente cambiando la qualità delle nostre relazioni, le relazioni sono probabilmente il 99% della nostra esistenza, se ci pensi un attimino è esattamente così, questo ci aiuterà a cambiare enormemente la qualità della nostra vita.